Mi chiamo Roberto e voglio raccontare un fatto accaduto un paio di anni fa. Siamo una famiglia composta da cinque persone, mio padre, mia madre, io e le mie due sorelle minore. L'accaduto parla della più piccola delle sorelle, Chiara, che allora aveva solo tre anni. Tutto cominciò quando sentì parlare mia sorella da sola in camera da letto. Dunque entrai e cercai di capire cosa stesse dicendo, ma farfugliava. Pensai che fosse normale che una bambina parlasse da sola. Magari giocava con un'amica immaginaria. È molto comune e lasciai perdere. I giorni passavano e la mia sorellina stava sempre più nelle sue. Non comunicava più del dovuto con noi e voleva stare in camera da letto nella sua culla. Una sera, scherzando, dissi a mia madre, vediamo con chi sta parlando. Ci avvicinammo alla colla e mia madre le chiese appunto con chi stesse parlando. Lei rispose, con Joy Lee e tornò a giocare con appunto questa sua presunta amica immaginaria. Fin qui tutto normale. Una bambina che inventa nomi e persone. Ma la cosa cominciò a farsi inquietante quando lei piangeva senza nessun motivo apparente e alla domanda del perché stai piangendo. La risposta era sempre Joy Lee. Cominciòmo a farle più domande su chi fosse questa donna e lei la descrisse come una donna anziana con dei lunghi capelli rossi e un ciuffo bianco. La descrizione della donna mi fece a capponare la pelle così come ai miei familiari. Chiara diceva che questa donna la faceva piangere perché si comportava male e non faceva i capricci perché lei non voleva. Mia sorella non dava più ascolto a nessuno di noi. Stava solo ad ascoltare Joy Lee. Quando la vicenda ebbe inizio la donna che chiara vedeva stava con lei sola nella colla. Ma con il passare delle settimane Joy Lee era ovunque lei andasse. Infatti non giocava più con gli altri bambini perché a suo dire Joy Lee non voleva. A casa eravamo terrorizzati. Non si parlava d'altro che di questa donna che ormai comandava la mente di mia sorella. Qualsiasi cosa lei facesse, qualsiasi sentimento lei provasse, era sempre e solo a causa di questa Joy Lee. Una mattina una mia zia molto religiosa ci consigliò di far dire la casa. E così facemmo. Ma con scarsi risultati. Joy Lee era ancora a casa nostra. Cercammo su internet questo nome per capire se avesse un significato. Cercammo anche sulla Bibbia. Ma nulla. Non trovammo mai nulla di rilevante. Questa storia andò avanti quasi per un anno. I parenti ci davano per matti ma noi sapevamo che lei era con noi. Chiara ci diceva che dovevamo comportarci bene o puniva pure noi. La paura era tanta e non sapevamo più che fare. Il giorno del suo quarto compleanno Chiara salutò Joy Lee. Ci disse proprio, Joy Lee ha finito e se ne sta andando. Salutava con la manina in modo allegro e alla domanda dove sta andando Joy Lee. Lei rispose. Chi? Non la ricordava più. Cercammo di fargli ricordare le cose che ci aveva detto o le cose che faceva e anche il modo in cui giocava da sola. Ma non ricordava nulla. Abbiamo passato davvero un brutto anno. Terrorizzati da una presenza che è poi scomparsa all'improvviso. Non abbiamo ad oggi ancora capito cosa sia successo. So solo che ho i brividi a ripensare a quella donna. Grazie a tutti.